C'è stato un bando vinto per la formazione dei dirigenti. Tempo di bilanci di fine anno anche per Aset. Dopo i confortanti risultati del sondaggio tra gli utenti sulla qualità ed efficienza dei servizi offerti, per la società si chiude un anno ricco di risultati positivi. La salubrità dell'azienda lo testimonia il fatto che l'ultimo consiglio di amministrazione del 2018 ha aumentato le risorse per le famiglie in difficoltà, portandole da 100.000 euro a 150.000 euro, confermando anche la disponibilità per le imprese in crisi, cui ora potranno attingere anche tutti i comuni soci di Aset. Ma il 2018 è stato un anno ricco di risultati positivi e di progetti anche ultimati. Abbiamo raggiunto le certificazioni che volevamo raggiungere, quindi con accredia per il laboratorio di analisi, tutta l'azienda per le altre certificazioni corrine, per quanto riguarda la sicurezza, la tutela dell'ambiente. Abbiamo finito la querelle degli scolmatori con un'opera in funzione, senza problemi alcuni né per le stagioni balneari. Abbiamo fatto degli investimenti solo nella rete idrica per circa 1.200.000 euro solo per Fano, mentre invece sono stati fatti altri investimenti sui comuni limitrofi che comunque hanno il servizio dell'idrico. Abbiamo raggiunto come obiettivo il 71% della raccolta differenziata. Abbiamo allargato, definito il piano di ammodernamento di tutta l'illuminazione del triennio 2016-2018. Abbiamo raggiunto importanti obiettivi, quali i finanziamenti del Mercurio Free. Siamo arrivati primi praticamente in un progetto che ha visto coinvolti 70 progetti a livello marchigiano e noi siamo risultati primi con un importante finanziamento. Abbiamo avuto finanziamenti per la formazione dei dipendenti di Aset. Abbiamo aperto una farmacia che non è poco, abbiamo implementato determinati servizi di telemedicine e quindi siamo più che speranzosi per il futuro di Aset. Ora inizia però un anno che proietta la società dei servizi verso nuove sfide nevralgiche. Vale il caso di citarne due emblematiche su tutte. L'impianto per il trattare il verde e l'impianto per il trattamento meccanizzato dei rifiuti. Ma il 2019 sarà l'anno anche della grande riorganizzazione delle sedi della società che porterà gli uffici amministrativi ora in via Mattei, via Nolfi ed in via Fanella nei nuovi spazi di via Inaudi a Bellocchi ed il centro di raccolta differenziata invece sarà a Ponte Metauro mentre in centro storico rimarrà uno sportello aperto al pubblico.